Da un certo punto di vista questo qui è anche un gesto estremo da parte mia di fidarmi così quasi anche ciecamente forse del Corriere dello Sport ma vedendo quella che è l'importanza della notizia a tutti gli effetti purtroppo non posso neanche fare altrimenti quantomeno a livello di tifoso una parte di me è anche proprio quasi costretta a credere alle parole del Corriere dello Sport quanto meno a fidarmi veramente perché poi stando a ciò che ha scritto magari questa mattina Giovanni Albanese la paura è iniziata inevitabilmente ad aumentare ed ovviamente il tema è quello di Cristiano Giuntoli ovviamente perché sappiamo che a partire da domani qualora nella giornata di oggi Giuntoli non riuscisse a liberarsi con il Napoli la Juventus qualora è veramente convinta decisa di prendere il direttore sportivo dovrebbe chiedere una proroga federale una deroga non una proroga una deroga federale e stando a quello che ha scritto appunto Giovanni Albanese cioè pare che la Juventus non abbia queste intenzioni quindi fondamentalmente o si libera oggi o sai che c'è aspettiamo la fine del contratto e poi magari l'anno prossimo prendiamo giuntoli con tutta la calma del mondo a questo punto evidentemente no? e questo onestamente diciamoci la verità non sarebbe proprio no? una mosca impeccabile a livello di progettualità di programmazione con tutto il bene del mondo perché io posso capire magari le difficoltà del caso però appunto sei tu che hai deciso di prendere un nuovo direttore sportivo non hai neanche preso in considerazione l'ipotesi di avere un piano B, un piano C, un piano D cioè insomma magari il piano B era la promozione momentanea di manna e queste cose qui però se magari no dopo che per praticamente due mesi, due mesi e mezzo giuntoli, 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 sempre solo giuntoli poi non arrivi alla conclusione di giuntoli e dici vabbè sai che c'è non chiedo neanche la deroga federale aspetta questo punto l'anno prossimo cioè non dico che sarebbe una figura di merda però insomma lascerebbe tanti dubbi sulla programmazione sulla progettualità, sulle idee chiare e quant'altro della Juventus e da un certo punto di vista attenzione questa paura quantomeno del sottoscritto rimane pur sempre lì è anche ben salda tra le altre cose perché è praticamente una decina di giorni abbondante che si parla di arrivo imminente praticamente tutto fatto, traggiuntoli e il Napoli è veramente questione di ore poi sarà un dirigente della Juventus quindi insomma è una paura che continua ad esserci questa qui e non può essere nemmeno altrimenti anche perché dopo la decima volta che ti dicono è tutto fatto, è questione di dettagli tempo qualche ora, le prossime ore saranno decisive e poi ci si riduce all'ultimo giorno dove poi altrimenti dovresti chiedere una deroga, una delega una deroga, scusate madonna, sono fritto dove tra le altre cose non si sa neanche quanto sia veramente intenzione della Juventus farlo è sempre giusto prendere tutto quanto estremamente con le pinze, cioè non ci sono neanche altre alternative onestamente solo che il Corriere dello Sport se ne è uscito parlando che se in serata non interverranno imprevisti e qui ne ho visti tanti negli ultimi giorni ma appunto diamo per buono da domani Cristiano Giuntoli sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica della Juve lo affiancherà l'ottimo Giovanni Manna che ha già completato le operazioni Rabio UEA e Coluseschi ieri Giuntoli ha raggiunto un'intesa verbale col presidente dell'Aurentis rinunciando ad alcune mensilità e secondo quanto filtra Torino l'ha comunicato a Maurizio Scanavino amministratore delegato della Juventus e questo è, questo ci giunge e fondamentalmente di nuovo tocca dirlo, non c'è nulla perché anche qui è da giorni che si parla di un Giuntoli che ha ormai raggiunto l'accordo con De Laurenti anche perché ha rinunciato a diverse mensilità si parlava anche dei premi Scudetto per praticamente un totale di 4 milioni lordi che il Napoli non andrebbe a versare perché Giuntoli evidentemente non vede l'ora di liberarsi e di raggiungere la Juventus il prima possibile domani tra le altre cose inizierà pure ufficialmente il calciomercato inizierà ufficialmente la nuova stagione e Giuntoli potrebbe essere presente a Rimini in veste da nuovo dirigente della Juventus però manca sempre, no? quel centesimo per fare l'euro ah, è tutto fatto è tutto deciso ha rinunciato ad un totale di 4 milioni per però il discorso è quello però ce la facciamo da qui a domani o dobbiamo veramente iniziare a preoccuparci seriamente perché io da un certo punto di vista mi voglio fidare appunto di quelle che sono le parole del Corriere dello Sport anche perché essendo un giornale del Sud magari ha contatti anche importanti in ambienti napoletani dirigenza Napoli e quant'altro e va benissimo però qui se potevi magari da un certo punto di vista star tranquillo a non lo so fine maggio inizio giugno considerando che ancora mancava un mesetto un mesetto e qualcosa alla fine della stagione oggi è l'ultimo giorno disponibile perché da domani nuova stagione e da domani se giuntoli non si libera oggi devi chiedere appunto questa questa deroga federale e poi anche se non si libera oggi eventualmente quando si libererebbe perché un discorso ovviamente sarebbe l'1-2 luglio o un discorso sarebbe il 20 luglio anche questo dobbiamo tenerlo in conto perché giustamente essendo sotto contratto con il Napoli non è che automaticamente ha da domani a posto no perché se non è a posto oggi non è detto che sia a posto domani dopo domani o fra una settimana e quindi insomma la situazione inizia a essere abbastanza delicata e uno anche giustamente potrebbe dire vabbè comunque è sotto contratto con il Napoli il Napoli anche se ti vuole fare uno sgarbo ha il diritto di farlo per l'amor di Dio infatti io mi sto concentrando soprattutto lato Juventus perché insomma se decidi di puntare soprattutto su un nome con la certezza che sarà il tuo prossimo direttore sportivo responsabile dell'area sport quello che vogliamo ci deve essere appunto questa certezza questa garanzia no che dici vabbè sì dai tanto è tutto fatto anche è giunto gli sta parlando con il Napoli oh siamo arrivati al 30 di giugno oh domani inizia la nuova stagione e sai che c'è forse non chiediamo neanche questa deroga e lo prendiamo direttamente l'anno prossimo insomma non è che sia proprio una roba bellissima ecco c'è che quantomeno già è una situazione abbastanza caotica di per sé all'interno della Juventus se ci vai ad aggiungere pure questa cosa qui non è che la migliori la cosa ecco vi sento di dire solamente così però voglio fare abbastanza fede alle parole del Corriere più che altro perché voglio far fede io a livello di tifoso a livello di Juventus che sarà perché altrimenti insomma ci sarà tempo modo e maniera di fare anche le giusti critiche del caso e tempo modo e maniera banalmente 12 ore scarse tra le altre cose perché a partire da mezzanotte fondamentalmente è giunto lì o si libera entro le prossime 11 ore e mezza ho seriamente paura degli scenari futuri se posso essere sincero voi magari fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve ciao 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 ciao